Perché ci racconta di un uomo impegnato in una lettura durante i suoi esperimenti sull'elettricità. Nikola Tesla, forse uno dei più grandi, un visionario, uno scienziato illuminato che ha saputo guardare oltre la normalità. Una persona che credeva di poter ricavare l'energia e che io penso sia ancora possibile perché la scienza su questo è tutto, credeva che si potesse ricavare energia attraverso la Terra, il più grande conduttore di energia al mondo. Questa è una foto bellissima durante un suo esperimento. Io avrei già avuto i capelli tutti in alto, vedi invece Tesla come tranquillo. Comunque sicuramente un precursore. Un personaggio dal grande fascino.